capitolo 13 in quella primavera la brughiera fu una grande risorsa emily e charlotte vi fecero frequenti passeggiate con grande danno per le nostre scarpe dissero ma a quanto spero a vantaggio della nostra salute il progetto di aprire una scuola fu spesso discusso durante quel vagabondare in casa cucivano assiduamente per lo più in silenzio un corredo di camice per l'assente brunwell meditando sulla loro vita presente passata e finalmente giunsero a una decisione ho seriamente mosso i primi passi sulla via che deve condurmi ad aprire una scuola cioè ricevere in casa un esiguo gruppo di alunne ho incominciato a cercare con zelo ho scritto a missis la signora presso la quale aveva vissuto come governante immediatamente prima di recarsi a bruxelles non per chiedere sua figlia non posso essere così esplicita ma semplicemente informandola della mia intenzione ho ricevuto risposta da missis che si rammarica credo sinceramente di non essere stata informata in proposito un mese prima nel qual caso mi avrebbe affidata la ragazza e insieme con lei sarebbe venuta la figlia del colonnello s ma ormai si erano impegnate con miss sì questa risposta naturalmente mi deluse ma d'altra parte ne fui veramente soddisfatta perché sono stata veramente incoraggiata dalla calda assicurazione che se mi fossi rivolta a loro più sollecitamente mi avrebbero certamente affidato la loro figliola ti confesso che temevo di non trovare nessuno disposto a mandare una ragazza a howarth per esservi educata questo timore è ora in parte passato ho scritto anche a mrs b accludendo il diploma rilasciatomi da monsieur hager al momento della mia partenza da bruxelles non ne ho ancora ricevuto la risposta che aspetto con una certa ansietà non mi aspetto di vedermi affidare qualcuna delle sue bambine ma so che se lo vuole può procurarmi delle alunne sfortunatamente ci conosce solo superficialmente appena mi sarò garantita anche una sola alunna farò stampare dei biglietti col programma e le condizioni e darò inizio alle necessarie modifiche all'ambiente qui in casa desidero che ogni cosa sia fatta prima dell'inverno penso di chiedere come retta includendo vitto alloggio e insegnamento in inglese 25 sterline all'anno ad anno più inoltrato scrive in data 24 luglio sto portando avanti del mio meglio il modesto progetto che sai ho scritto a tutti gli amici all'interesse dei quali vanto un pur minimo diritto e anche a persone che non mi devono nulla mrs b per esempio mi sono presa la libertà di farle visita è stata estremamente cortese mi ha detto quanto le dispiaceva che le sue figliole fossero in collegio a liverpool ha aggiunto che l'impresa alla quale mi accingevo meritava ogni lode ma che temeva che la posizione dell'edificio costituisse una seria difficoltà alla riuscita questa è la risposta che ricevo da quasi tutte rispondo che il luogo ritirato costituisce un vantaggio da un certo punto di vista che in un grande centro non potrei accontentarmi di una retta modesta come quella che chiedo mrs b mi aveva subito detto che la considerava molto moderata non dovendo pagare un affitto potevo garantire un insegnamento a livello di quello impartito in istituti assai più cari con una retta di poco superiore alla metà e siccome il numero delle alunne doveva essere assai limitato molto tempo sarebbe loro dedicato individualmente grazie per la graziosa borsetta che mi hai mandata io ti contraccambio con lo strano invio di una mezza dozzina di programmi stampati fa nell'uso che il buon senso ti suggerirà vedrai che ho fissata la retta in 35 sterline che penso siano una giusta media presi in considerazione i vantaggi e gli svantaggi quanto sopra era stato scritto in luglio agosto settembre ottobre passarono senza che si udisse parlare di una qualsiasi alunna giorno dopo giorno le sorelle speravano sempre più debolmente nell'arrivo della posta ma il villaggio di howarth era selvaggio e solitario le bronte poco conosciute nessuna delle loro relazioni sociali aveva una benché minima importanza charlotte commentò come segue il fatto all'inizio dell'inverno io emily e ann ti siamo veramente obbligate per come ti sei data da torno in nostro favore se non hai avuto successo ti è capitato semplicemente quello che è accaduto a noi tutti ci hanno augurato buona fortuna ma nessuno riesce a snidare le alunne tuttavia per il momento non abbiamo alcuna intenzione di lasciarci spezzare il cuore dalla situazione e ancora meno di sentirci mortificate o sconfitte l'impegno non può essere che benefico qualsiasi debba esserne il risultato visto che ci procura esperienza e una migliore conoscenza di questo nostro mondo ti mando altre due circolari non abbiamo ancora fatto alcun cambiamento in casa sarebbe una pazzia affrontare le spese mentre è così scarsa la probabilità che vi vengano delle alunne temo che ti prenda troppo disturbo per noi puoi star certa che anche se riuscirai ad indurre una madre ad accompagnare la sua figliola howarth l'aspetto del luogo la spaventerà e si porterà subito via la ragazza sono lieta però di avere fatto il tentativo e non ci lasceremo deprimere perché non avrà avuto successo probabilmente nel cuore delle sorelle andava nascendo anche se non lo amettevano un vero e proprio sollievo per l'insuccesso del loro piano quella casa che quale focolare domestico era sempre pronta ad accogliere il loro fratello non poteva essere una dimora opportuna per ragazze strane con ogni probabilità si erano silenziosamente rese conto che il suo comportamento era tale da rendere la sua compagnia più che indesiderabile in certi momenti forse erano già giunte fino a loro voci che spiegavano le cause di quel rimorso di quell'angoscia che lo facevano preda a volte di un'ingiustificata allegria e a volte di una irritabile depressione nel gennaio del 1845 charlotte scrive questa volta brano è stato più quieto meno irritabile che nell'estate scorsa anne come al solito è invariabilmente buona mite e paziente la tormentosa preoccupazione che aveva messo profonde radici in famiglia ormai aveva preso una forma precisa e pesava come piombo sulla mente di charlotte e sulla sua salute nelle prime settimane di quello stesso anno si recò a h per dire addio alla cara amica mary che si preparava a lasciare l'inghilterra per recarsi in australia oltre alla pena per la separazione incombeva su di lei una profonda tristezza cagionata dalla consapevolezza che non era ancora certezza della colpa di cui suo fratello si macchiava una colpa che già lo dominava tanto da rendere inutile ogni rimostranza per quanto severa ogni occasionale rimorso anche se acuto a tal punto ne era prigioniero questa storia deve essere raccontata se mi fosse possibile evitarlo lo farei anche se è così conosciuta da essere per così dire di dominio pubblico inoltre è forse possibile che rivelare l'agonia cagionata una famiglia la miseria le abitudini disordinate la morte precoce di chi le fu compagno nel peccato faccia nascere un barlume di pentimento nella sciagurata donna che non solo gli sopravvive ma trascorre il tempo negli allegri ritrovi della società londinese pronta ad accogliere amichevolmente quella briosa elegante ricca e florida vedova bronwell aveva ottenuto un posto di precettore pieno di talento brillante conversatore valido scrittore buon disegnatore pronto alla lode con un fisico lungi dall'esser brutto attirò il capriccio di una donna sposata che aveva quasi vent'anni più di lui non gli valga di scusa di dire che fu lei a fare le prime mosse e ad agire da innamorata era così ardita e spregiudicata che non si nascose dai figli più grandi e quelli presero a minacciarla che se non li avesse accontentati in questo quest'altro capriccio avrebbero detto al padre costretto a letto come se la intendeva con mister bronte figlio questo era talmente stregato da quella donna depravata che se ne allontanò malvolentieri per recarsi a casa durante le vacanze di natale vi si trattenne per un brevissimo tempo lasciando i familiari perplessi e sgomenti dal suo modo di fare incongruo ora esaltato ora depresso si accusava di colpi orribili di tradimenti senza specificarne la natura nell'insieme dando prova di una irritabilità da sconfinare con la pazzia charlotte le sorelle soffrivano per questo suo anomalo comportamento poiché si dichiarava soddisfatissimo dell'impiego ottenuto vi restava più di quanto fosse mai accaduto nei precedenti posti di lavoro come immaginare che proprio in quello vi fosse una situazione tale da sconvolgerlo al punto di farlo continuamente passare da una esagerata euforia a una cupa disperazione ma il sospetto che la vera causa si annidasse in lui le deprimeva non era più l'orgoglio della famiglia anzi si insinuava in loro l'inconfessato timore che potesse diventarne il disonore ho l'impressione che si trattenessero dal mettere in parole la loro preoccupazione parlavano di lui il meno possibile ma non potevano impedirsi di immaginare di pensare di soffrire 20 febbraio 1845 ho trascorso a h una settimana non molto piacevole un continuo mal di testa unito a una leggera nausea e a uno spirito abbattuto hanno fatto di me una povera compagnia una triste remora alla vivace gaiezza degli altri ospiti della casa non ho avuto la fortuna di riprendermi nemmeno per un'ora finché mi sono trattenuta là sono certa che tutti forse eccetto a tameri sono stati contentissimi quando ho preso congedo incomincio a rendermi conto che ormai la scarsa vivacità che mi resta mi permette di essere una compagna adatta solamente a gente molto tranquilla è l'età o cos'altro che mi cambia così beh non c'era bisogno di porsi una simile domanda come poteva non essere di spirito abbattuto e perciò una povera compagnia e una triste remora per chi vive felice a cuor leggero il suo onesto progetto di guadagnarsi la vita era ridotto in cenere dopo tante iniziative non si era presentato una sola alunna e ora nel constatare l'impossibilità di realizzare quel sogno invece di rammaricarsi aveva un triste motivo per allegrarsene il suo povero padre semiceco dipendeva in gran parte da lei ma questa era un'incombenza sacra e pia e facendosene carico si sentiva benedetta l'occupanzi era cagionata da colui che ancora poco tempo prima era stato fonte di vivida speranza per la famiglia da brunwell dagli inspiegabili disordinati sbalzi di umore che segnavano la sua giornata prima o poi sarebbe pur dovuto tornare a casa per nascondervi come in un rifugio la sua vergogna questa era la triste previsione delle sorelle lei inoltre era sul punto di perdere per lungo tempo la sua cara mary che se ne andava a una così grande distanza da far temere che il loro fosse un addio per sempre molto tempo prima aveva scritto a proposito di meriti è colma di sentimenti nobili caldi generosi profondi devoti dio la benedica non potevo sperare di incontrare in questo mondo una creatura più nobile sarebbe pronta a morire volentieri per una persona amata il suo talento i suoi pregi sono del più alto livello e questa era l'amica da cui si doveva separare ecco il resoconto del loro ultimo incontro fatto dall'amica stessa quando vedi charlotte per l'ultima volta nel gennaio del 1845 mi disse che ormai aveva deciso di restare a casa ammise che la cosa non le piaceva ma la sua salute era debole disse che a tutta prima le sarebbe piaciuto un qualsiasi cambiamento come in un primo tempo le era piaciuto bruxelles era certa che per alcuni vi fosse la possibilità di godere una vita varia in piena comunicazione con gli altri ma che non vedeva come ciò potesse essere possibile per lei io le dissi con calore che non doveva rimanere a casa che trascorrere i prossimi cinque anni a howarth in solitudine con la sua salute malandata equivaleva a rovinarsi definitivamente non se ne sarebbe mai riavuta una così cupa nube le scese sul viso quando aggiunsi pensa come ti sarà ridotta da qui a cinque anni non pianse ma continuò a passeggiare avanti indietro per la stanza e dopo un po mi disse ma io ho l'intenzione di rimanere polli alcune settimane dopo la definitiva separazione da mary e la diede il seguente resoconto delle sue giornate a howarth provo difficoltà a dirti come il tempo trascorre qua nessun avvenimento ne segna il passaggio ogni giorno è simile a quello precedente e tutti hanno un'impronta pesante inerte la domenica giorno in cui inforniamo il pane e il sabato sono gli unici giorni contrassegnati da qualcosa che li distingue dagli altri nel frattempo la vita procede presto compierò trent'anni e non ho ancora concluso nulla a volte mi malinconisco gettando lo sguardo sulla prospettiva che si apre dinanzi a me oppure sul panorama che mi sta alle spalle riconosco che è inutile sciocco meditarci su senza possibile dubbio la voce del dovere mi impone di rimanere a casa per il momento vi fu un tempo in cui howarth era un luogo piacevolissimo per me ora non lo è più ho la sensazione che noi tutti vi siamo sepolti desidero ardentemente viaggiare lavorare condurre una vita d'azione scusami cara se ti infastidisco comunicandoti miei inutili desideri metterò da parte le altre spiacevoli considerazioni non ti importunerò con esse devi scrivermi se tu sapessi quanto le tue lettere sono le benvenute scriveresti spessissimo insieme con i giornali francesi esse contengono gli unici messaggi che mi giungono dal mondo esterno al di là della nostra landa e quanto mi sono benvenuti una delle sue incombenze quotidiane consisteva nella lettura d'alta voce fatta al padre il compimento di questo dovere richiedeva da parte sua l'esercizio di una gentile diplomazia poiché spesso sentire altri fare per lui ciò che egli era stato solito fare da solo gli rammentava penosamente la menomazione di cui soffriva inoltre senza farne parola con i suoi anche charlotte temeva di essere destinata a perdere la vista una salute cagionevole a lungo trascurata il fegato in disordine la continua applicazione a disegnare a scrivere con un tracciato minutissimo nei giorni dell'adolescenza le lunghe notti tormentate dall'insonnia le molte lacrime sparse in silenzio per la condotta disordinata e misteriosa di brano e tutto ciò contribuiva a indebolire i suoi poveri occhi in quei giorni scrissi a monsieur heger quanto segue non vi è nulla che io tema tanto quanto l'ozio l'inerzia la letargia delle facoltà mentali e quando il corpo è pigro lo spirito soffre crudelmente non conoscerei questa letargia se potessi scrivere in passato trascorrevo giorni settimane mesi interi scrivendo e non del tutto senza frutto poiché colleridge e southy due dei migliori nostri scrittori ai quali ho inviato alcuni manoscritti si sono degnati di farli ma ormai ho la vista troppo debole se scrivessi molto diventerai cieca questa debolezza agli occhi è causa per me di molte privazioni se la situazione non fosse tale sapete cosa farei signore scriverei un libro e lo dedicherai a voi vi ho detto spesso in francese quanto vi rispetto quanto devo alla vostra bontà quanto devo a voi che siete stato il mio maestro nello studio della letteratura l'unico maestro che io abbia mai avuto devo tanto ai vostri consigli vorrei dirlo una volta in inglese già non è possibile non ci devo pensare la carriera delle lettere mi è chiusa non dimenticate di dirmi come sta la signora come stanno i bambini faccio conto di ricevere vostre notizie quanto prima questo pensiero mi sorride poiché il ricordo della vostra bontà non si cancellerà mai dalla mia memoria finché questo ricordo durerà durerà anche il rispetto che mi avete ispirato gradite signore eccetera eccetera charlotte pronte è probabile che nelle sue sorelle nelle più intime amiche siano state al corrente di questo suo timore della cecità in agguato quel tanto di vista che le restava lo dedicava al servizio del padre cuciva poco scriveva solamente lo stretto necessario il lavoro a maglia era la sua principale occupazione 2 aprile 1845 vedo con assoluta evidenza che in questo mondo non vi è un solo sorso di felicità totale da assaporare la malattia di x giunge di pari passo col matrimonio di y e meriti si trova libera su quella via di avventura e di impegno sulla quale ha così lungamente desiderato di incamminarsi la malattia il pericolo le privazioni come compagni di viaggio come inseparabili compagne avrebbe potuto trovarsi fuori portata dalle burrasche di sud ovest e di nord ovest prima che incominciassero a imperversare oppure essi avrebbero potuto logorare la loro furia a terra senza sconvolgere granché il mare ma le cose sono andate diversamente e lei è stata violentemente colpita mentre noi riposavamo tranquillamente nei nostri letti o vi giacevamo sveglie pensando a lei tuttavia questi pericoli reali palpabili una volta passati lasciano nella mente il ricordo di aver lottato con le difficoltà di averle vinte ne risultano invariabilmente forza coraggio ed esperienza mentre ho i miei dubbi che la sofferenza puramente mentale abbia un qualsiasi risultato se si esclude quello di renderci per confronto meno sensibili al male fisico dieci anni fa avrei riso dello sbaglio che hai fatto scambiando il dottore scapolo per un uomo sposato ti avrei certamente trovata esageratamente scrupolosa e mi sarei chiesta come era possibile che tu potessi rammaricarti di esserti mostrata cortese verso un uomo corretto semplicemente perché si dava il caso che fosse libero ora invece posso rendermi conto che i tuoi scrupoli si fondano sul senso comune so che se vogliono evitare lo stigma di essere a caccia di marito le donne debbono sembrare di marmo di creta fredde prive di espressione di sangue poiché ogni manifestazione di sentimento di gioia di dolore di amicizia di antipatia di ammirazione di disgusto sono indiscriminatamente interpretate dalla gente come tentativi di agganciare un marito non ci va a dare dopo tutto le donne diretta intenzione hanno la propria coscienza per conforto non avere dunque un'eccessiva paura di mostrarti quale sei affettuose di buon cuore non reprimere troppo drasticamente sentimenti eccellenti in sé per tema che un ragazzetto qualsiasi si ficchi in testa che tu li lasci scorgere per affascinarlo non ti condannare a vivere solamente a metà perché un qualche tizio presuntuoso che veste calzoni potrebbe ficcarsi nel cervello che ha il disegno di dedicare la vita alla sua vanità tuttavia un comportamento sobrio e controllato è un grandissimo pregio in una donna e questo tu lo possiedi scrivi nuovamente presto perché sono piuttosto infuriato e ho bisogno di una buona doccia fredda 13 giugno 1845 in quanto a quella tale missis che tu dici mi assomiglia io invece non provo alcuna simpatia per lei non ne sento mai per le persone giudicate simili a me perché ho sempre l'idea che siano come me solamente nella sgradevole prima impressione che posso dare in quelle caratteristiche che sono le più ovvie nel contatto superficiale con la gente e che so non essere attraenti in me dici che è intelligente una persona capace a quanto mi dispiace questa espressione dall'idea di una donna astuta impicciona brutta chiacchierona sono riluttante a lasciare papà per un solo giorno la sua vista si abbassa da una settimana all'altra e non ci si può stupire che mentre vede diminuire la più preziosa delle sue facoltà sia nel leggere che nello scrivere paventi la condizione dipendente in cui la cecità lo ridurrà inevitabilmente teme di non poter più fare nulla nella sua parrocchia tento di rincuorarlo a volte mi riesce temporaneamente ma nessuna consolazione potrà restituirgli la vista o compensarne la perdita eppure non è mai lagnoso ma mai impaziente solamente ansioso e depresso a causa della situazione qui sopresposta charlotte declinò l'invito a recarsi nell'unica casa dove ormai la invitavano in risposta alle insistenze della sua corrispondente scrive hai pensato che ho rifiutato il tuo invito con freddezza quando avrei dato volentieri i miei occhi per dirti sì mentre ero costretta a dirti no tuttavia ora le cose sono un po cambiate anne è tornata a casa e la sua presenza mi concede un po di libertà perciò se tutto andrà bene verrò da te fammi solamente sapere quando devo venire indicami la settimana il giorno abbi inoltre la gentilezza di rispondere alle seguenti domande se ti è possibile che distanza c'è da leeds a sheffield sa indicarmi quanto costa il viaggio naturalmente quando sarò con te mi lascerai godere in pace la tua compagnia e rinunciando a trascinarmi a far visite non ho alcun desiderio di vedere il vostro curato penso che sia tale quale tutti gli altri curati che ho già conosciuto mi sembrano un genere principalmente preoccupato di se vano e vacuo in questo benedetto momento ne abbiamo addirittura tre nella parrocchia di howarth e non venne a uno che valga compensare gli altri giorno giorni fa tutti e tre accompagnati da mrs s sono capitati o per meglio dire si sono precipitati da noi inaspettatamente all'ora del tè erano lunedì giorno in cui facciamo il pane sicché io ero stanche accaldata tuttavia se si fossero comportati quietamente ed educatamente li avrei serviti in tutta pace invece hanno incominciato a gloriarsi a dare addosso ai dissenzienti in modo da farmi perdere la pazienza e venni fuori con alcune frasi rapide e taglienti che li misero tutti quanti a tacere papà ne rimase inorridito ma io non le rimpiango tornata dalla breve visita fatta all'amica viaggiò con un signore che dalle fattezze e dai modi riconobbe all'istante per un francese si avventurò a chiedergli se era veramente tale e avuta una risposta affermativa gli domandò se per caso non avesse trascorso un lungo periodo in germania e si sentì rispondere di sì il suo orecchio esercitato aveva colto nell'intonazione del compagno di viaggio quel non so che di gutturale che i francesi dicono di notare nell'accento perfino dei nipoti di quei loro compatrioti che hanno vissuto a lungo oltre il reno charlotte aveva conservato una piena familiarità con quella lingua grazie alla consuetudine che espone come segue a messio heger ho molta paura di dimenticare il francese imparo allora ogni giorno mezza pagina memoria e provo un gran piacere nel mandarla a mente assicurate madame di tutta la mia stima temo che marie louise e clermi abbiano già dimenticata ma vi rivedrò un giorno appena avrò guadagnato abbastanza denaro per venire a bruxelles verrò il suo viaggio di ritorno a haworth dopo la visita all'amica fu dunque allietato dalla conversazione con il signore francese e della giunse a casa distesa e soddisfatta per incontrarvi cosa erano le dieci di mattina quando giunse alla canonica vi era brano il tornato inaspettatamente gravemente ammalato era giunto a casa uno o due giorni prima apparentemente per una vacanza ma a quanto immagino perché era stata scoperta la cosa che rendeva la sua assenza inequivocabilmente opportuna il giorno del ritorno di charlotte aveva ricevuto da mister una dura lettera di licenziamento vi si dichiarava che il suo modo da agire era stato scoperto veniva bollato con la taccia di vile al di là di ogni possibile espressione gli veniva imposto sotto pena di venire smascherato pubblicamente se avesse disobbedito di interrompere immediatamente per sempre qualsiasi comunicazione con tutti i membri di quella famiglia senza eccezione vennero alla luce i vergognosi particolari bronwell non era in condizione di nascondere il suo disperato rimorso né strano a dirsi nemmeno per timore della vergogna il suo disperato desiderio di quell'amore colpevole diede libero sfogo ai suoi sentimenti scandalizzò e desolò inesprimibilmente le amorevoli sorelle il padre quasi cieco sedeva impietrito dolorosamente tentato di maledire la donna perversa che aveva fatto cadere in tentazione il suo unico maschio il suo ragazzo trascinandolo nell'abisso di vergogna di un peccato mortale l'instabilità di umore la gaiezza eccessiva alternata alla depressione apparentemente immotivata degli ultimi mesi ora si spiegavano c'era inoltre una ragione ancora più profonda per le sue intemperanze per affogare rimorso aveva iniziato la sua carriera di bevitore inveterato l'aspetto più pietoso della situazione per quanto lo riguardava consisteva nell'anelito amoroso che provava ancora per la donna che lo dominava totalmente a vero dire e la dichiarava di provare un amore uguale a quello di lui ma ben presto si vedrà quanta verità vi fosse in quelle parole nel giovane ci fu un inatteso soprassalto di coscienza quando alcuni mesi più tardi incontrandola a hargate suo appuntamento rifiutò di fuggire con lei come la gli proponeva fino alla fine della sua breve vita rimase in lui un che di buono nonostante la debolezza e la corruzione in cui affondava questa storia presenta il rovescio di quanto avviene abitualmente in casi simili l'uomo fu la vittima la vita di lui fu devastata la morte fu conseguenza del dolore la sua colpa fu determinata dalla colpa altrui fu la famiglia dell'uomo che provò più pungentemente la vergogna in quanto alla donna nonostante il pionome di suo padre nonostante il sangue delle onorate famiglie che fluiva nelle sue vene nonostante la casa dove era cresciuta sotto il cui tetto sedettero uomini cui nomi sono considerati santi in ricordo del gran bene da loro compiuto se ne sta ancora oggi in una rispettabile cerchia sociale vistosa nonostante l'età tenuta a galla dalla fama della sua ricchezza nei giornali della contea leggo il suo nome fra quelli delle patronesse che organizzano i balli di natale leggo di lei nei resoconti dei ricevimenti londinesi ma ora leggiamo qui avendo già preso conoscenza delle sofferenze del suo colpevole complice quale desolazione la cagionò a vittime innocenti la cui morte prematura può per certi versi essere imputata a lei brano il ci ha dato un triste da fare scrive charlotte pensava solamente a ottundere o affogare la sua desolazione nessuno in questa casa ha potuto riposare e alla fine siamo state costrette ad allontanarlo da casa per una settimana accompagnato da qualcuno che se ne prendesse cura mi ha scritto stamane esprimendo una certa contrizione ma finché rimarrà in casa non posso sperare che vi sia pace fra le nostre pareti domestiche temo che ci si debba preparare tutte quante in previsione di un periodo di angoscia e di inquietudine quando ti ho lasciata ero sotto la forte impressione che me ne ritornavo incontro al dolore agosto 1845 le cose qui a casa vanno super giù come al solito non molto bene per quanto riguarda brano il benché la sua salute e di conseguenza il suo amore siano stati diciamo migliori in questi ultimi uno o due giorni perché è costretto ad astenersi 18 agosto 1845 ho tardato a scrivere perché non ho buone notizie da comunicare le mie speranze nei riguardi di brano il sono scarse a volte temo che non farà mai nulla di buono l'ultima delusione circa le sue prospettive e l'ultimo colpo subito dai suoi sentimenti lo hanno gettato in uno stato di massima inquietudine solamente la totale assenza di mezzi vale a trattenerlo si dovrebbe sperare fino all'ultimo e mi sforzo di farlo ma in certi momenti la speranza sembra tanto fallace nel nostro caso 4 novembre 1845 avevo sperato di poterti invitare a howarth sembrava che brano e l'avesse la probabilità di ottenere un impiego e io aspettavo di conoscere l'esito del suo tentativo per dirti cara vieni a trovarci ma il posto segretario presso una compagnia ferroviaria è stato accordato a un'altra persona brano il dunque per ora rimane a casa e finché lui sarà qui tu non devi venire quanto più modo di vederlo tanto più mi confermo in questa decisione vorrei essere in grado di dirti una buona parola a suo riguardo ma non mi è possibile non dirò di più ti siamo tutti obbligati per il tuo gentile suggerimento a proposito di leeds ma i nostri progetti per la scuola in questo momento sono accantonati 31 dicembre 1845 dici bene quando dici che nessuna sofferenza è tanto acuta come quella provocata da una condotta dissipata ahimene faccio l'esperienza personale quotidianamente x e y devono condurre una vita altrettanto spossante e stressante nel prendersi cura del loro infelice fratello sembra penoso davvero che chi non ha peccato personalmente debba tanto soffrire l'anno 1845 fini così tanto vale che io completi a questo punto la narrazione della vita di brano il bronte alcuni mesi più tardi o la data precisa ma per ovvie ragioni non la rivelo il marito infermo da lungo tempo della donna con la quale aveva avuto una relazione morì brano e l'aveva atteso con colpevole desiderio questo avvenimento la morte del marito avrebbe lasciata libera l'amante che per quanto possa sembrare strano il giovane amava ancora appassionatamente ora immaginava che il momento di fare concreti progetti di matrimonio fosse giunto per poter in seguito vivere uniti senza rimprovero e senza biasimo e la gli aveva proposto di fuggire con lui gli aveva scritto di continuo gli aveva mandato denaro a 20 sterline per volta rammentava le delittuose richieste fategli come aveva sfidato la vergogna le pretese che dei figli che minacciavano di rivelare ogni cosa ed era convinto che lo amasse davvero non sapeva quanto una donna può essere cattiva e depravata il marito aveva fatto un testamento nel quale l'ingente sostanza che le lasciava era vincolata da una sola condizione non doveva rivedere mai più brano il bronte appena letto il testamento forse temendo che brano il si se si preparasse a raggiungerla avendo saputo della morte del marito mandò un domestico in tutta fretta howarth questi si fermò a blackball da dove mandò subito un messaggero alla canonica a chiamare brano il questi scese alla piccola locanda e rimase chiuso con quell'uomo per un certo tempo poi il servo salì a cavallo e ripartì brano le rimase nella stanza e passò più di un'ora prima che desse segno di vita poi si udì un grido disperato simile al muggito di un vitello straziato e quelli che accorsero spalancando la porta lo videro in preda alla violenta crisi subentrata allo stupore in cui era caduto all'udire che l'amante gli proibiva di farsi vivo visto che se l'avesse fatto lei avrebbe perso ogni sua sostanza viva e fiorisca pure lui è morto tenendo in tasca fino all'ultimo giorno le sue lettere che aveva sempre portato con sé per poterle leggere e rileggere ora giace e la sua sorte eterna è conosciuta solamente dalla misericordia divina durante gli ultimi tre anni di vita brano lo usava all'oppio abitualmente per stordirsi per di più appena gliene si offriva la possibilità beveva senza ritegno il lettore potrebbe osservare che ho fatto menzione della sua intemperanza assai prima di quegli anni è vero ma quanto mi è dato saperne non era un'abitudine prima che avesse inizio la colpevole intimità con la donna di cui ho scritto sopra se mi sbaglio su questo punto vuol dire che i suoi gusti erano tanto depravati quanto il suo istinto prendeva l'opio perché l'aiutava a dimenticare meglio di quanto facesse l'alcol e inoltre era più facile da trasportare nel procurarselo dimostrava l'astuzia propria del drogato usciva furtivamente mentre la famiglia si trovava in chiesa dove aveva dichiarato di sentirsi troppo male per andare e riusciva a indurre il farmacista del luogo a dargliene un pezzo oppure senza saperlo il corriere gliene portava in un pacco che giungeva da lontano alcuni mesi prima di morire fu preso da violentissime crisi improvvise di delirium tremens dormiva nella stessa camera col padre e ripetutamente esclamava che uno dei due sarebbe morto prima della mattina le sorelle tremanti si sentivano male dallo spavento imploravano il padre di non rimanere esposto a quel pericolo ma mister bronte non è uomo timido e probabilmente pensava di sapere influire sul figliolo in modo da fargli mantenere un minimo di controllo più dimostrandogli fiducia che non dando prova di paura le sorelle vegliavano temendo di udire il rumore di uno sparo nel cuore della notte finché l'occhio insonne e l'orecchio teso si facevano pesanti e insensibili per la perpetua tensione nervosa la mattina seguente il giovane bronte se ne veniva fuori dicendo con una sguaiataggine da ubriaco quel povero vecchio io abbiamo passato una notte terribile fa del suo meglio povero vecchio ma non c'è più niente da fare poi aggiungeva singhiozzando è colpa di lei è colpa di lei tutto quanto rimase da dire su brano il bronte sarà detto da charlotte stessa non da me grazie a tutti grazie a tutti